Ciao a tutti, oggi prepareremo i muffin alle mele. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono uova, latte, olio di semi di girasole, farina di tipo 00, zucchero semolato, lievito per dolci vanigliato, mele tagliate a dadini, vanillina, mele tagliate a fette, sale. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta posizionando la farfalla sulle lame, mettere lo zucchero, le uova. Posizioniamo il coperchio senza il misurino ed azioniamo il bimbi per 10 minuti a velocità 4. Aggiungere il latte, l'olio ed azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 2. togliere la farfalla dalle lame, aggiungere la farina, il lievito, la vanillina e un pizzico di sale ed azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 4. aggiungere le mele tagliate a pezzetti ed azionare il bimbi per 30 secondi anti orario velocità 2. il composto è pronto, versiamolo nei birottini per muffin. Posizionare le mele spolverizzare con lo zucchero semolato. Cuocere in forno pre riscaldato statico a 180 gradi per 20 minuti circa. I muffin sono cotti, lasciamoli raffreddare, spolverizzare con zucchero a velo e servire. muffin alle mele, grazie e alla prossima ricetta. grazie a tutti! a presto! Grazie a tutti.